bella a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video di fortnite oggi siamo un video abbastanza particolare perché andremo a far sfidare due iscritti casualmente in 1v1 ovviamente bhe nella mappa bhe e a chi vince gli andremo a regalare qualcosa nello shop oggi siamo in tre con aurora e sernando hello ciao siamo i tre giudici di questo fight enorme ok speriamo sia enorme non andremo a vedere io va che ci sono quindi why not andiamo a mettere pubblica raga aspettiamo che qualcuno entri nella nostra lobby six and a half hours later eccolo qui ciao pasquale ciao pasquale come va va vai ti va di fare una sfida bene allora se vuoi fare questa sfida dovrei aspettare il lobby il prossimo concorrente appena arriva l'altra persona ti dirò di che sfida si tratta quindi balla e pazienta aspettiamo che c'è di pomeriggio c'è un cazzo di nessuno me la do io dormo svegliate e mi commenta eccolo bella face me tu comunque vengono si scrive come si dice come parola ok qui c'è già del dissing tra loro due bene bene dimmi ricordi per il caso un rx nx ban si mi ricordo bella e bene 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 attenzione attenzione c'è con c'è del content facendo allora ragazzi no no non so nel live face med ti va di fare una sfida vai face med o li va di fare una sfida beh la sfida riguarda questo dovrete sfidare te e pasquale in 1v1 nella bhe che arriva prima a tre punti vince qualcosa dello shop ci state si è sicuro fra fissato no è assicurato raga che devo credere pasquale dici di sì io dico subito di sì perfetto ragazzi si vede in creativa ci si vede in creativa ok ragazzi ci siamo ci sono preparati dito un po l'inventario che avete nonno blu e assalto blu senza cure io vado a spettatore e vediamo un po come andranno questi round in bocca l'uva entrambi potete iniziare quando volete stiamo aspettando pasquale let's go il pasco nazionale il pasco nazionale misse colpo prendi danno pasquale attenzione al nostro x ben in a ground prova l'edit bellissimo 39 ma prende un bot di danno attenzione pasquale è un spalino fa nevino e va a vincere così face medu primo round 1 a 0 per face medu andiamo al secondo eccoci qua ragazzi il secondo round let's go adesso stiamo aspettando face medu incredibile parte con i nineties prova a bloccarlo ma viene bloccato lui però prendere la ground con un po di al grande rete in più a modo suo lo fa cadere il nostro pasqualino vale ancora ma attenzione lo fa cadere a sua volta incredibile pro box arlo doppio 33 è giovane uscita attenzione attenzione caso si sempre più vicini sono sempre vicini pasqualino puscia dall'alto spam con la r per provare a deconcentrarlo ma nostri x ben non lo smettisce mai prova il nostro face medu a salire ma pasquale lo distrugge dal sotto doppia scala non riesce davis per forza a riscendere un'altra volta attenzione pasqualino scende level shield un bel 101 mi sa che gli ha levato la nostra face medu attenzione sono entrambi bianchi ragazzi sono entrambi bianche va a vincere face medu con il 2 a 0 mamma mia mamma mia ragazzi 2 a 0 incredibile pasquale deve rimontare per forza mi ha fatto cagare no 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 prenderà l'incorso avvenire attaccato al muro 3 2 1 il terzo rando è iniziato round decisivo per face medu ma round da da rimonta per il nostro amico pasqualino vediamo un po come andrà a finire questo terzo round attenzione pasqualino provo lo spam incredibile si avvicinano e pasquale se la porta a casa così pasquale 2 1 per sempre il nostro face medu hai sbattato a merda capisco questi dissimi insomma è partito intanto il quarto round quarto round pasquale cade face medu dall'alto vi ricordo che a lui manca solamente una victoria pasquale le ne mancano due l'ansia aumenta il nostro pasquale che vengono mi stai mettendo ansia da vi basta fa build molto strane vostro pasquale attenzione laserino da parte di face medu va a pusciare con il pompa pasquale va fuori dalla mappa e face medu se la va a concludere così la poterà a casa non è entrambi non erano riscaldate ragazzi mettiamo che entrambi non erano riscaldati e vabbè giusto così gg per face medu gg per face medu raga torniamo in lobby e facciamo scegliere eccoci tornati in lobby ragazzi andiamo a regalare ciò che vuole il nostro amico face medu ha anche detto x man vai scelga scelga no pasquale abbandonato poverino ma no no dici da 500 c'è solamente passi da sogno face medu passi da sogno lo vuoi? pronto? si anzi aspetta un secondo fammi vedere un secondo regà ah supporta i ritori dai due dominati c'è mi raccomando utilizzatelo tutti eh se volete anche voi entrare a fare queste sfide random raga mi raccomando Utilizzate il codice E mandate una richiesta Mi raccomando Andiamo subito Da passi da sogno Compra un regalo Nostro face mad Nazionale Se la va a portare a casa Così Let's go Ma hai già inviato? Yes Facciamo una squadra Vai Raga Facciamo una cosa Facciamo una cosa Dov'è? Come si chiamava Pasquale Raga Pasquale Tutto quanto Staccato Con le parole Aspettate Raga Facciamo una cosina Raga Facciamo sì Il regalo Per aver partecipato Anche a Pasquale Le regaliamo un balletto Da 200 WVAC Che comunque È giusto perché Ha partecipato Lo ringraziamo così Pavoro Pasquale Che è scappato via Proprio Indegnato di tutto Proprio Non voleva più sentire Nessuno Che si ha abbandonato E vabbò Le regaliamo questo Giusto perché Giusto perché sì Ecco per te Pasquale E ho rincazzeggiato Su FIFA E GG Ma è sempre Su Fortnite Così Che ho visto online Mi sono unito La sfida Che ho vinto Bene ragazzi Per questo video Direi che è tutto Un saluto a parte di tutti Ma voglio soprattutto Anche un saluto Da parte di X-Ben Come lo sa fare lui Vai Bella raga Viva la Red Bull Ciao raga Ci si becca Bella Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie.